Una bella giornata di sole, ci troviamo sulle piste degli spiazzi di Grom in Alta Valle Seriana, alle mie spalle. Lo splendido paesaggio delle montagne è situate nel cuore delle Alpi Eorobiche. Si tratta di 15 km di piste, a soli 40 km di distanza da Bergamo. Le piste possono essere praticate e affrontate anche da chi non è esperto. È atteso un gran numero di sciatori per il Ponte dell'Immacolata. L'apertura è prevista per sabato. Il sabato prossimo inizieremo, non so con quante piste, però sicuramente qui abbiamo 50-60 cm di neve, per cui la parte alta è già pronta per la partenza. La parte è da 1200-1750 e ci sono tre seggiori con due skiff, per cui la potenzialità di dispersiare è molto bella. Ci sono delle piste blu, rosse e nere di tutti i tipi e di tutti i quartieri. Dopo la fatica sportiva ci si può rinfrancare, ci si può riprendere al rifugio. Siamo qui al rifugio, abbiamo ampliato in 200 metri quadrati di spazio, per cui c'è questa possibilità stupenda di poter mangiare di piatti tipici e particolari. Sopra di noi abbiamo un solario stupendo, per cui c'è questa possibilità di poter rimanere qui al sole e dalle 8 del mattino troviamo il sole sul Vodana. Buone notizie anche da colere per gli amanti della neve. La nevicata dei giorni scorsi è stata abbondante, 40 cm, intorno ai 1600 metri del polzone e circa un metro e mezzo sul ferrantino. Se tuttavia, come previsto, nei prossimi giorni dovesse nevicare nuovamente, la situazione del manto nevoso potrebbe essere ideale. I gestori degli impianti hanno deciso di aprire da sabato 5 fino al 13 dicembre, quindi una pausa per gli ultimi interventi sulle piste, la cartellonistica, le dotazioni di sicurezza e dal 19 di nuovo sempre aperti. Il discorso nostro è che qua noi abbiamo delle piste di 7 km con 1200 metri di dislivello, ciò che sono poche stazioni che possono guantare piste come colere. Perché anche le piste alte partono da 2002 e si divaricano, sono tre piste, hanno tre percorsi diversi per congiungersi giù a 1400 metri. Dunque si fa sempre 800 metri di dislivello per pista e poi in più c'è la pista bassa che rientra in paese, sono altri 400 metri di dislivello e la pista lunga è 7 km. Grazie a tutti.